Siamo arrivati all'ultimo concerto del nostro tour invernale, volevamo ringraziare anche noi la nostra direttrice, Paola Mattiassi. Grazie, 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 grazie. E quest'anno è stato un bel giro, siamo arrivati fino a Venezia, siamo andati oltre e oltre la provincia di Verona. Bene, ora con questo brano, quindi con Oh Happy Day, noi vi salutiamo, vogliamo che con noi, a parte che qui non posso dire battete le mani perché così ve le riscaldate, cioè nel senso abbiamo avuto un bel termosifone di quelli naturali belli forti, vi auguriamo da parte nostra un buon inizio d'anno, che l'anno sia sereno e felice per tutti quanti voi, speriamo di vederci in questa situazione, in un'altra situazione, comunque vederci ancora. Ancora un grazie da parte nostra all'amministrazione, un grazie ai nostri fonici, un grazie a voi che siete qui e per voi tutti quindi questo Oh Happy Day in versione quasi da discoteca, quindi chi vuole balli pure. Oh Happy Day, grazie mille a tutti, grazie. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti, 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 grazie mille Via Oh, happy day, he told me how, to all who I fight and pray, fight and pray, keep up in Jesus' hand, and leave rejoicing, to rejoice and have, in every day, every day, yeah, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, yeah, my happy, oh, happy day, oh, happy day, Oh, happy day! Ciao a tutti! Speriamo che abbiate passato una bella serata, speriamo che vi siate divertiti e noi mi auguro e ci auguriamo di rivederci ancora per il prossimo anno, a farci ancora gli auguri qui con questo bellissimo falò e quindi... Speriamo che abbiate! Speriamo che abbiate! Speriamo che abbiate! Speriamo che abbiate! Grazie! Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie mille, buona serata, buon rientro! Grazie, gentilissimi! Grazie ancora e augurone a tutti quanti! Grazie! Grazie.